Grazie a voi, Interpa 2023, ultimo giorno del show, non potete evitare una visita al Meccano Plastica Group booth e abbiamo la possibilità di intervistare alcune parliamo con Alberto Mencherini, direttore del gruppo. Ciao Alberto, come va? Tutto è ok, grazie per aver venuto e per l'opportunità. Tutto è ok. Com'era il show? Up to now, è stato incredibile, perché anche se è la nostra prima attenzione, le visite qui sono di qualità, quindi siamo molto felici. Quale era il focus principale di Meccano Plastica? Per questa exibizione, è la tecnologia di stretch blow, la macchina di due stagione per la produzione di P.T. che produciamo nella nostra branca di Barcellona. principale siamo qui per questo tipo di tecnologia, ma anche per l'extrusion blow, la nostra tecnologia storica che produciamo in Florence, in Italia. Abbiamo un bel feedback da i clienti. E come tutti lo sappiamo, gli italiani lo fanno meglio. Sempre. Top! Sì, top! Ma lo vedremo dopo. Inoltre, c'è un megatrende molto importante durante questo show, e non solo questo show, che è la sostenibilità. come è il meccano Plastica interpreta questo? Eh, ovviamente, è uno dei principali committimenti, anche per la nostra firma. Quindi, in termini di riduzione energetica, in termini di riduzione, in termini di riduzione in termini di riduzione, perché stiamo massivamente riduzendo il layout della nostra macchina, in termini di riduzione, per il cliente che necessitano di riduzione, in termini di riduzione. E poi, ovviamente, la questione di riciclato materiale. Siamo trovati e stiamo cercando di fare il nostro meglio per soddisfare la produzione di riciclato o multi-layer container, PET, e, let's say, HDPE bottles, grazie alla nostra tecnologia. Ok. Ho sentito che il mercato sta andando molto bene. Pensi che si sta andando e sarà migliorato? E come avremo il 2023, secondo te? Credo che il 2023, anche per la seconda parte, non sarà così diverso dal primo. Quindi credo che i clienti sempre saranno abbastanza prudenti e dovremo avvaluare l'investimento proprio. Anche perché, sai, l'increzione delle taxe per l'investimento e la banca. Quindi credo che sarà principalmente nei ultimi mesi del 2023, con il progetto del 2024, che sarà, let's say, generale, più meglio del 2023. Ora è una figura prudenziale, quella che vedo le regole dei nostri clienti. Ok, tutto bene. Grazie a tutti, Alberto Mencherini, da Meccano Plastica Group. Restate in attenzione per altre notizie. E se vogliono andare un po' più nei dettagli, se vogliono servire la web, qual è il tuo sito? www.meccanoplastica-group.com E' fantastico! Quindi invito Alberto a usare il nostro motto, un tre motto di motto che è TOP! Top! Sempre push and never give up! Yeah!